Musica 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 fai un po' di pane. Se non è diventata una tempestata, fai un po' di carne. Se andate bene, fai un po' di farina e stiamo bene con la polenta. Perché qui l'è un po' di sale e fomentiamo. Perché? Perché fai un tiscoso con il fomentiamo. Cioè? La farina fai la polenta, fai la crisca per i vestiti, fai il residuo per i polastri. Con il tuo grande turco è un titolo. Con il tuo fomentiamo, fai la panna, fai la polenta, fai la polenta, finita. Invece con il tuo grande turco è un titolo. E c'è pa' in Tendagüela. C'è pa' in i testi, mettere sempre le cose che avevano un panino per loro. E' un panino come sa fa' mangiare? Allora c'è pa' un cometo fruso il nostro fomentio, perché fino all'acqua ti spavano un sacco di nocci per ammazzare il fomentio, la farina, un po' di pane, un po' bianco a mangiare. E' un pane negro che avevano. Il sceattamento per ammazzare il mestolo. La filia è vero e la vie è d'accordo. Siamo sempre a trovare un po' cacina o capone, ma bisogna staccare il tempo perché sotto i vestiti servono a rubare. E mentre loro si sono in grossa, però la verdura ruba i caen. S'è addicione! E la pefese in questa mangiare, magari un po' di nocci o un polastri. e c'erano i cattolini e i bagaieti di Zio l'Ai Maria? e le primo domande a me la fai di Zio l'Ai Maria dopo mi trovavo il scaletto un scaletto di... trovavo altri da comune interpelavano e dopo selezionavano, portavano in casa, sul tavolo e dopo fanno la sua errore L'e' vera che se trava proprio via niente Non mi trovo più da pena Questa è vera per aver risposto lì Ma non è una pausa non è una pausa Dove bisogna fare una pausa Non è un G said Quindi è vera che la storia effettava niente Non è vero che è la vita Il mio papà, specialmente quando veniva Natale, veniva su due uomini di villa, il padre Carletto e il suo fratello. Poi veniva in Beran, Gerd, e Aniesa e il suo amano, che aveva un po' predè. Aveva venato in Canossa, cantava, e aveva pensato che ci sono alle mesi e nozze per mangiare la buzetta, perché aveva una macchina, non aveva mangiato prima. Aveva una frase di gran cantante. E non si divertì mai che io.